Le feste ci stanno pensando sindaco, assessori e volontari. Sentiamo Razio Letto. Emergenza rifiuti nei 33 comuni del lato Messina 1, anzi 32, perché a Ficarra la spazzatura la recolgono sindaco, consiglieri, dipendenti comunali e volontari. Una decina di persone in tutto all'opera dalle 6 del mattino con l'aiuto di due operai e un mezzo dell'amministrazione comunale. Per me è una cosa giusta. Il lavoro è una mattina alla sera, non so se gli altri comuni fanno la stessa cosa. Mi piace fare il montaglio, quando mi chiamano sono sempre ad esposizione. Olio di gomito e spirito di iniziativa per scongiurare l'emergenza rifiuti almeno nel piccolo borgo sui Nebrodi, dopo la rescissione del contratto tra lato 1 e il consorzio di imprese per la raccolta e il conferimento in discarica del battume. Da quando ci siamo insediati, da 4 anni fa, abbiamo pulito le strade provinciali, abbiamo pulito il paese sempre con gruppi di gente che sono disponibili perché ci tendono alla pulizia. Noi abbiamo investito sulla pulizia soprattutto di questo paese. L'immondizia separata per tipologie caricata sul mezzo del colune viene accantonata temporaneamente in un'isola ecologica. Da noi i rifiuti sono stoccati in maniera assolutamente legale e differenziata. Si tratta poi di portarle, di conferirle a discarica e questo lo faremo sempre nei termini della legalità attraverso l'ordinanza. In attesa della ripresa della raccolta, il servizio assicurano sarà garantito anche nelle prossime settimane.